che poi è stato ripreso anche da altri scrittori ovviamente negli anni che sono venuti dopo e qualcuno se ne ricorderà Sandro Benna ci ha fatto una poesia su questa roba Popper ha scritto proprio su questa società aperta allora il discorso è questo, è semplicissimo Pericre dice due cose, Atene è una città, una polis in cui tutti sono belaccetti perché da tutte le parti vengono, purché portino cultura e lavoro e questo è il primo sintomo di una grande civiltà che stava nascendo che è la civiltà di mare, tutte le civiltà di mare sono civiltà democratiche aperte ma la seconda cosa che dice Pericre io la trovo in una bellezza straordinaria che me la sono scritta da tutte le parti a casa mia dice ricordate i cittadini che la democrazia non è fatta tanto dalla maggioranza quanto dal consenso del dissenso è grandissimo il consenso del dissenso è meraviglioso due mila e cinque stupi anni fa dire una cosa del genere significava iniziare un percorso che non è ancora finito perché la democrazia è perfetta lo sappiamo però è l'unica cosa che ci resta per poter parlare, dire, essere con gli altri è un po' quello che ha ripetuto anche Benigni sul palco del giovedì quindi Grazie.